...fare la mozione assistente ...e tenendo il microfono che fai l'assistente equilibrio ...facciamo un inizio del cavolo ...e proprio dentro tutto quello che facciamo in giro a destra da questa posizione devi fare un giro di 180 gradi in questo modo qua mentre lo fai durante il metodo di restare fatto ...e mangi così ...e mangi... ...e mangi... ...bravi bravissima allora, prima ruolo partire dal piedi in caso dei piedi, che in più del 608 il piedi vai a parte alla parallela ...prestete l'obelicolo non è sempre la stessa altezza quindi quando ti girano si deve alzare bravissima ...fando il voce adesso prendo il giro e ora fai il giro ...fai il giro ...fai il giro ...fai il giro ...fai ...fai il giro ...fai il giro ...scho da 30 ...mento alto ...fai il giro per ritornare nel equilibrio, il piano è che si alza, adesso ho stesso ruolo a fare un giro, e quindi, relax, il stesso giro per la classe santa tu non ho fatto una persona a te, si dici, tu non sono tutto uguale, lui fa dai, devi alzare il pallone, e tu devi alzare il pallone il baricento è il nostro basso, e devi trovare una partecipiente, guarda, sono fuori estero noi abbiamo già qualche tipo di lavoro, vi serve per tutti i lavori di cittadesto, che quindi, non per aderci, non per il piede non si deve alzare, quando in giro, il pallone si alza, e la testa, guarda, la testa è una cosa che faccia dal corpo il giro sul il progetto il giro sul il giro sul vai 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 girando la testa vai 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 No, no, vai, bene, stop, un giro di sciro e non si scava, e non è male, anche il D.A., molto simile, tocco la legatita a punti, giro sempre per stare, per fare un taglio, dico verso di me, ti passo la palla, non è tirata, ok, va, bene, vai, 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 bene, bene, io mi abbasco, davanti, per stimolare, non la resta giù, come si va, perché? Non è certo che la differenza è in realtà, io mi abbasco dietro, e no, mi abbasco dietro, e se non mi vado adesso a aprire, mi la vai a prendere, tocco, avanti, tocco, avanti, tocco, avanti, entro, vai, no, a proprio, vai, no, a proprio, vai, vai, tengo, no, a proprio, vai, ci ha passato il penultimo, bravo, vai, vai, bravo, arrow, manAAAA, vai, vai, bravo, sempre prima, cambia, cambia, quindi vai racesacultura, basso,atsù, basso, guarno, ok, GO, WA, Fondeggia frontalmente, fronteggia e altera, girando il sergio di fronte alla tira, vai prendevi e mette l'aglio, metti lì, metti lì, metti lì, vai, appro, vai, molto bene, metti lì, vai, metti lì, soccrute semplici, però secondo me, ripetendo l'aglio, diciamo, c'è qualcosa, lascia, non tanto lì si scava, ok? Metti lì, mi senti cantando, dici, adesso lei mi passa a fare, vai, bravo, non ti fermare, prendi lì, adesso, quando stupute, come ci vorrei immaginare che c'è la difesa, come fosse uno scarico, e poi metti, vai, vai, in questo modo, comincia la volta per l'aglio, bravo, senti lì, bravo, i posti di gaccia, vai, bambini, dai, ho lì, come si succede, ha lì, ho il segreto, per maniare, non è ricercito, questo è un'opera, invece, questo attore, secondo me posso sottolineare, posso sottolineare,部分, ma comunque è un esercizio, non è lo che ne ho, c'è un 100 milione, non è un aspetto importante, è che molti ragazzi hanno un po' di contatto molti hanno un po' di contatto quindi fare gli esercizi semplici che però li fanno tardare sempre più pronto sempre nell'attivazione della squadra quindi la coppia se tu li fanno tanto allora vince questo è vecchio però fanno anche un punto vince e si trocca al girato vai che stanno rispondendo vince e si trocca al girato vai così non è un piede sarà un girato si trocca al ogni tanto spero la volta che stava non si svegli ok sono si 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 vai vai ok stop altra nella situazione non è un'altra signora che è un consiglio giudiamo spinti ok stai dicondito qui è pronto e non sei l'università Ok, sto fatto, sto fatto, quindi spingersi, non mi protegge, queste sono, diciamo, le situazioni di warm up, di attivazione, che mi tracciano per il lavoro vicino a questa. Allora, è solo una strada, è una risposta di formalità, cioè, ogni partita, a tutti i metri, ci sono situazioni di grande vantaggio vicino a destra, dove l'interesse è praticamente fatto, ma con l'uomo in giro sbaglia. Il da piccola, c'è il lungo, che il nostro cuore sbaglia, e tu ti mangiare, come fai, se non si trova bene, come fai a sbagliare contro l'uomo in giro sbagliare, secondo me, per non sbagliare, quel tipo di tiro bisogna fare, un sacco di lavoro, cioè, non è così, se non parlo, come sempre. Come mi piace la traccia, un altro, eh, cambio, un altro video, ok. Allora, questo lo faccio, siamo vicino a testa, mi ho detto vicino, stai piegando, ok, bene, la parte vicino a cadestra, faccio io, che ho preso, sto c'è lì, un ribalzo per il sede, un abbio, uno scavolo, ok, grande vantaggio, è cosa si parla, o ce l'ho dietro, che mi spinge, o ce l'ho di fianco, ok, ma non ho lo spazio per tirare la dietro. Allora, se vedi, queste serie origini, non vedi, da qua qua, mi ritravo, cioè, no, devi stare at work, vicino all'occhio, bravo, mi ritira l'ho di scinna, ritira, ok, da qua prendo, e guardo che ce le gira, mi ride in angolo, lo spingono allora quando è che resto non lo vuoi per tirare l'obiettivo è questo, mi tirai che secondo me molti giocatori su questo contatto io vado senza stare in equilibrio cioè non esistiscono il contatto e dopo il tiro tirano quando arrivai fuoco invece il contatto allora è che resto? è una parola protetta quando si può dire la scuola è una scuola è una scuola non è che resto? non è che resto? non è che resto? non è che resto? anche non è che resto? non è che resto? vai ok perchè? se vado all'interno e all'esterno la difesa è in perchè il passato sarà sicuramente in avanti se vado all'esterno e all'interno se vado all'interno e all'interno ti proteggi vai 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 bravo vai ok guarda il mio cassinale vai ma stai in equilibrio vai ok stop spessi il bravo salti quando il parimento si finge non mi metti il bravo vai salto ma la vado più vai con la filtra con il cuscino le patate hai dai 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 ci tira via no ci hai capito aspettaci si scende da piedi vai si basso riguardi il discurso tanto e lo buttiamo vai riguardi il tuo tanto e lo buttiamo vai si basso oh non abbassare l'indicente vai i fatti vai 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 vieni 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 se c'è se la difesa viene c'è il tuo tanto lo metto gestito vai vieni 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 questo è un lavoro per abituare i miei giocatori a lavorare la cima del destro e giocare contro il concetto l'ultima idea è che sono i pazzi, tu giochi con, tu sei un giocatore però tu ti fai molto in un pazzo, tu ti fai molto in un pazzo, tu ti fai molto in un pazzo prende il trappo, vai un po' e si ci fai vai, ancora, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio hai gestito il contatto, sempre caldo, c'è qui, non è più, ecco qua e rinarte, un'altra cosa, gestire il contatto con l'uomo se senti l'uomo, se non ci fai un contatto, come ci sei vai, metti qui, guarda il resto, molto bene, vai grazie Seconda cosa che secondo me è molto importante per il giocatore interno, giocare prendendo una posizione profonda, cercare di giocare dentro uno smile, cioè questo progettivo non è che prendo l'acqua sulla cactera, vado a mettere e prendo la posizione, allora metto un giocatore qua senza farlo, metto l'assistente dentro, ok, allora hai un'altra sensazione profonda, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Allora, i miei defici, la difesa è dentro, vado a mangiare lo spazio, non vado a aspettare, ma vado a mangiare. La tua idea è quella che lo devo quasi fare un blocco, cioè lo devo prima andare a prendere e non vado a mangiare, luogo, ma anche prima, vado a mangiare, la parte o per toccarmi, se la fanno in avanti, qui è questo bruscio, questo è lo sposto, in modo base all'alga dei piedi, scivolo verso il basso, netto alto e due mani per avere un bersaglio, secondo me, ne lavare con precisioni, con questo modo, se io non mi spinge il mio braccio, ma se io non mi spinge, se mette le mani se mette le mani il nostro gioco ha la giusta quindi non vuole dare secondo me è una domanda la domanda è dorsalmente dalla parte dove lui vuole la giusta se mette le mani se mette le mani non vuole dare e sbilanciare se mette le mani non vuole dare la faccia cioè il cuore su non vuole dare la faccia ai principali devo giocare dorsalmente se mette le mani se mette le mani mi mette la gamba a una fine giusta per la prima parte per la prima parte per la prima parte poi vado a mangiare la spazio se metto il microfono mi metto la spazio se metto la lavoro dorsalmente come prima per il sconso come ci lavora mi sentite se parlo così per risolvere un microfono mi incasino posso fare così posso fare così allora chiudzo chiudzo ci vuole appunto no, è questo ma io guarda chiudi le braccia metti quel braccio a chiudere e lo sposti la gestione del contatto fisico oppure quando vai a ribalza lui aderci però a buona ma non 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 è Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.